Investire 50-100 euro al mese non ha alcun senso. Se vuoi investire ti servono per forza tanti soldi. Devi almeno almeno partire da 10.000 euro perché altrimenti non ti serve a niente investire. Questa è una grandissima cazzata. La sento di continuo, sento cose simili di continuo. Proprio poco fa mi ha scritto un ragazzo che mi segue e mi ha detto guardo ho parlato con un mio amico e questo mio amico mi ha detto che investire 50-100 euro al mese non serve a nulla. Devi andare in banca, gli dai i soldi e loro ti fanno gli investimenti e sei a posto così. Di per sé questo lo capisco perché c'è ignoranza riguardo il mondo degli investimenti. Il motivo per cui ho scelto infatti di fare questo video è proprio per andare a sbugiardare un pochino di luoghi comuni, in particolare proprio questo del devi avere tanti soldi se vuoi investire. Da dove nasce questo luogo comune? Nasce dal fatto che noi crediamo che gli investimenti siano uno un sistema di guadagno, due un modo per cambiare la nostra vita. E sì gli investimenti possono aiutare a cambiare la propria vita ma non dall'oggi al domani. Il problema è che si approccia agli investimenti senza conoscerli, quindi senza capire come funzionano, senza capire dove stiamo investendo e lì si approccia con il classico modo all'italiana del compro il biglietto della lotteria e via. E se vinco vinco, se perdo perdo. Non funziona così. Gli investimenti non sono un punto diecimila per farne quattrocentomila. Gli investimenti sono un qualcosa di molto 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 lento, lento e graduale, costante. E' la goccia che scava la pietra. E' questo che significa investire, significa studiare, significa capire su cosa stiamo investendo. Non semplicemente prendo, butto tanti soldi lì, diecimila, ventimila, quello che è, e mi aspetto di fare il botto. Non funziona così. E in questo video ti mostrerò con i dati alla mano, risponderò a tutti quelli che mi scrivono che investire con poco non serve a niente, ti dimostrerò con i dati alla mano che in realtà è una grandissima stronzata. Partiamo dallo step 1 però. Prima di vedere dove investire, andiamo alla base. E cioè, io non investo quei soldi. Quindi io mi prendo i miei 50-100 euro al mese e anziché investirli, li lascio in banca. Allora partiamo direttamente col vedere che cosa succede se li lascio in banca. Che cosa potrà mai succedere? Succederà che l'inflazione se li mangia. Ora, prendiamo un normalissimo calcolatore delle inflazioni. Qua sotto poi ti lascio tutti i link di questi strumenti che abbiamo usato. Abbiamo speso nell'anno, prendiamo un intervallo di 10 anni, quindi nel 2013, un importo pari a, se sono 50 euro al mese, fai 50 per 12, sono 600 euro. 600 euro abbiamo speso nel 2013, oggi mettiamo il 2023. Metto dal 2013 al 2023 perché il 2024 non lo prende. Quindi per evitare noi teniamoci 10 anni dal 2013 al 2023. Ora, in questo caso, io ho speso nel 2013 600 euro, oggi nel 2023 per comprare ciò che ho comprato con quei 600 euro nel 2013, quanti soldi mi servirebbero? E li diciamo calcola. Ecco qua, il calcolo l'ha fatto in pochissimo. I 600 euro che nel 2013 mi compravano qualcosa, oggi nel 2023, per comprare quella stessa cosa mi servono 712 euro, cioè mi servono 112 euro e 81 in più per comprare quello che io 10 anni fa compravo con 600 euro, quindi una discrepanza del 18.8%. Cosa vuol dire? Vuol dire che i tuoi 600 euro che hai lasciato in banca hanno perso di valore 112,81 euro. Quindi sì, sei in perdita del 18.8%, quasi del 19% in dieci anni, calcolando che qui si fa riferimento al classico tasso dell'inflazione. Non si va in realtà ad analizzare tanti tipi di spese che sono lievitate. Quindi stiamo parlando in realtà probabilmente di una inflazione più pesante, qua c'è almeno un 20, 22, 23% da calcolare. Però noi teniamoci di base, diamo per assodato che sia così e questo è il risultato. Quindi i tuoi soldi, i tuoi 50-100 euro che hai detto non vale la pena investirli perché sono troppo pochi, bene ma sono troppo pochi per essere buttati nel cesso e lasciati bruciare? Eh, vedi che le cose iniziano a cambiare. A questo punto andiamo a vedere se li avessimo investiti la stessa quantità, cosa sarebbe successo nello stesso identico intervallo di tempo. E ho preso due asset speculativi. Uno, proprio base base, cioè il classico SP500, cioè l'indice delle top 500 aziende statunitensi, e due, Bitcoin. Quindi ho preso un asset relativamente anzianotto, ma con un ottimo storico, quindi ottimo, interessante da utilizzare, ad analizzare, è accessibile praticamente a chiunque, ti basta fare un account su Trade Republic, Bitpanda o quello che vuoi e ce l'hai, oppure investire sul Bitcoin, che quindi ha uno storico diverso, con chiaramente una forza diversa. Però tenendoci molto banalmente sul nostro SP500, vediamo che cosa avrebbe portato nello stesso lasso di tempo. Quindi lasciamo gennaio 2023, qui lasciamo gennaio 2023, scusami, che scemo, 2013-2023. In questo lasso di tempo, io ho investito mensilmente, abbiamo detto 50 euro. 50 euro aggiustato all'inflazione, calcoliamo, ecco qua. Vuol dire che in dieci anni io avrei investito 6.583 euro. Dopo dieci anni avrei in portafoglio 11.363 euro. Se lo aggiustiamo all'inflazione, 9.400 euro. Anzi, in realtà avremmo dovuto prendere e fare quel calcolo dei 600 anno per anno, vedere di quanto si svalutava, per poi fare un composto e avere un'idea. Però io per praticità ti ho fatto vedere solo la base. Proviamo a fare, così abbiamo la stessa quantità, non abbiamo la stessa idea. Proviamo a fare, a misurare nello stesso modo. Quindi ho investito 600, non investo niente, non investo più niente. Ho investito 600 nel 2013 e li ho lasciati lì. Calcola. Ora i miei 600 investiti nel 2013, nel 2023 sono 2.000 euro. Da 600 siamo passati a 2.000 euro. Abbiamo guadagnato una media del 9,85%. Quindi avremmo dai 600 che abbiamo investito 1.500 in portafoglio. Ergo, investire ha molto più senso rispetto che tenere i soldi fermi lì a marcire. Questo su orizzonti temporali lunghi. Abbiamo visto il piano d'accumulo come serve. Ora andiamolo a calcolare per capire quanto effettivamente può portarci un piano d'accumulo di 50 euro al mese. Facciamolo magari su 20 anni. Quindi dal 2003 al 2000, anzi facciamo 2004 se c'è. Eccolo qua. Al 2024. Così andiamo, visto che ormai siamo in chiusura anno, andiamo meglio. Facciamo 0. E investiamo i nostri 50 euro cagati ogni mese. Calcola. Ecco qua. Come 50 euro al mese, negli anni, possono fare la differenza. Dal 2004 al 2024, in 20 anni, il nostro capitale investito è stato di 15.328 euro. Il capitale con sempre ovviamente i dividendi reinvestiti è di 51.531 come nominale dopo 20 anni. Se lo si andasse ad aggiustare all'inflazione sarebbero 37.000 euro. Praticamente un per due. Anzi più di un per due. Perché da 15k a 37k è un per due abbondante in 20 anni. Proviamo a fare 100 euro, vediamo com'è. 100 euro al mese. Calcola. Vuol dire investire 30.000 e arrivare a 103.000 che significa aggiustato all'inflazione un 75.000 sul conto in 20 anni. 100 euro al mese, 50 euro al mese possono cambiare le sorti del gioco. La questione è come l'investo, perché l'investo è soprattutto dove. Quindi non è una questione di quanto sto investendo, ma è una questione di come lo sto facendo. Cioè con quali stabilità lo sto facendo. Guardiamo anche bitcoin e poi traiamo le nostre conclusioni. Ipotizziamo di aver 50 euro acquistati ogni mese negli ultimi tre anni, negli ultimi tre anni, quindi non sono andato tanto indietro, negli ultimi tre anni, significa aver investito 1800 euro e in tre anni averne 3633. Quindi una crescita del 100%. Quindi sì, investire 50-100 euro al mese su bitcoin può fare la differenza nel lungo termine. Ora andiamo a scomodare un periodo più ampio, avevamo detto, facciamo finta un 8 anni e 8 anni, sono in 8 anni 4800 euro investiti, 50 euro al mese, 55.296 dopo 8 anni. Quindi stiamo parlando di un ritorno del 1052%. Questi sono i numeri, questo è quello che bisogna guardare, non bisogna stare a chiacchierare, è 50-100 euro al mese, è troppo poco da investire. No, non è troppo poco, se lo si fa con cognizione di causa, con una strategia e comprendendo ciò che si sta facendo. Investire con poco si può fare? Sì, non solo si può fare, ma è necessario farlo. Bisogna comprendere che l'investimento non è quanto riesco a guadagnare, ma è quanto riesco a proteggere di ciò che sto guadagnando. È un gioco di protezione, io devo proteggere il mio capitale dalla svalutazione, è quella la base dell'investimento, il motivo per cui uno dovrebbe iniziare a investire. Poi guadagni e fai tutto il resto, ma prima creati una base solida per proteggere i soldi che ti stai guadagnando, perché tu stai già guadagnando, stai lavorando. Quei soldi lì, se i lasci fermi muoiono, ecco perché non è tanto quanto devo mettere per poter avere il guadagno massimo e diventare milionario. No, è quanto devo mettere di ciò che guadagno, quale percentuale, costantemente, per costruirmi nel lungo termine un cuscinetto che mi protegga dal perdere ciò che sto guadagnando. Quindi per rispondere alle domande che mi arrivano, si può investire con poco? Ha senso investire con poco? Sì, non ha senso investire poco a aspettarsi 200.000 euro dopo un anno, ha senso però investire con poco, iniziare a investire con poco e gradualmente aumentare seguendo quelle che sono le proprie entrate. Cioè se tu guadagni, che ne so, 1000 euro al mese, ok? Prendi il 10%, 100 euro al mese e investili. Metti metà da una parte, metà dall'altra, un po' su bitcoin, un po' su spc, dove dove ti pare? Io non sono qui per darti il consiglio finanziario della situazione. Tu studia e scegli dove metterli. Un po' per volta, ogni mese. Guadagni 1200, perfetto, ne metti 120. Guadagni 500, va bene, ne metti 50. Ma metti, cerca di mettere quel 10% investito. Quel 10% che tu vai a investire sul lungo termine significa 10 anni, 20 anni, 30 anni, è quello che costruirà poi il tuo futuro. Quindi investi sì con poco, ma il poco moltiplicato nel tempo cambierà totalmente, drasticamente ogni cosa. Perché entra in gioco quello che si chiama l'interesse composto, che è la legge più potente in assoluto, ed è la legge che trasformerà totalmente le tue finanze a patto che tu vada a fare interesse composto su cose, su asset che hanno un senso. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, scrivila qua sotto. Ti ringrazio per essere stato qui con me, spero che questo video ti abbia aperto un po' la mente sul mondo degli investimenti. Se hai amici che la pensano così, che credono che investire poco sia inutile, inviali questo video, condividilo il più possibile, perché un po' per volta magari le sorti del gioco possono cambiare per tanti. Ti ringrazio per essere stato qui con me, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.